benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di un film che ha regalato l'esordio a stefano sollima colui che ha reso celebre comorra praticamente a cab un film del 2012 che è molto caro a molti italiani ora capiremo perché partiamo partiamo col dire che è un film del 2012 quindi vecchio ma non vecchissimo disponibile ora su netflix voi streaming dove volete parliamo chiaramente è un film di quasi due ore drammatico thriller poliziesco molto bello molto reale ed è tristemente reale perché va a scontrarsi con tremi con temi estremamente attuali che mai passeranno di moda estremamente irradicati tra gli ultras italiani molto radicati molto 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 le colonne sonore sono molto belle perché sono dei mokadelic sempre collaborazioni con catalea sky scatlantic che ha fatto appunto sollima regia di comorra e mokadelic le meravigliose colonne sonori di comorra sono tre celerini i nostri protagonisti filippo nigro il calvo che fa a meteo cinaia in subburra marco giallini che cosa non ha fatto e pio francesco favino cosa non ha fatto questi tre attori filippo nigro magari perché non lo sapesse è quello che faceva all'epoca ris di parma gli altri due hanno fatto tantissimi ruoli di notevole importanza per il cinema italiano e non solo quindi tre attori che amo che hanno fatto parte della mia adolescenza della mia crescita insomma dal punto di vista culturale sono tre celerini che affrontano il lavoro con enorme frustrazione frustrazioni vabbè con enorme nervosismo sul lavoro che lo rivestano su qualsiasi aspetto della vita questo è il trailer insomma in sintesi filippo nigro il celerino calvo affronta le proprie avversità vive il temore di non vedere la propria figlioletta perché la moglie cubana decide di lasciarlo e lui rivendica il diritto di essere padre guadagna appena mille euro al mese o poco più e deve mantenere la figlia e la moglie perché appunto si divorzia e l'aspetto trascinante di questa epoca di questo di questa porzione di film è che chi rivendica i diritti del padre se pare non può vedere la figlia quando l'ex moglie non vuole se pare di tagliarsi le gambe e lo stipendio per far vivere la figlia l'ex moglie che fine fa finisce invece una strada e l'aspetto relativo a questo protagonista è che si puzza di fame e che non può vedere la moglie e riversa tutto e la figlia e riversa tutto verso lo stato italiano e sui diritti che non ci dà ai quali vengono negati praticamente ma zinca marco giallini è anche il celerino come ho detto e al caso un po più spinoso perché un figlio xenofobo italiano medio per antonomasia ultras ignorante per antonomasia e per me gli ultras sono tutti ignoranti xenofobo fascista nazista che rompe i suddetti a tutti quanti deve fare sempre casino che deve rendersi superiore populista che deve mettere sempre le mani avanti e il giustizioso valoroso che deve fare tutto quando da solo e ci vuole essere tipo dei figli e mi ritrovo perfettamente in questa situazione perché a destra e sinistra li vedo insomma quelli che vanno salire sugli altarini per combattere tutti e tutti ma senza concludere mai nulla e lui il fin d'invalido è di combattere con la sua gamba con la moglie che fa anche la la voliziotta in maniera anche lei è un po' balorda e col figlio che dovrebbe essere arrestato ma non verrà arrestato e poi c'è più francesco favino che interpreta cobra e il più aggressivo in effetti lui perché c'è proprio lo stereotipo dell'aggressore celerino ragazzo tifoso praticamente deve far vedere alcuni retroscena sia dal punto di vista stradale pratico sia dal punto di vista giudiziario e verrà assolto con grande sorpresa le colonne sonore non sono soltanto mogadelic ma anche qualcosa di fifa se avete vissuto questo segmento e sports ed è molto bello e tutto è contrastante perché c'è sempre un contrasto soli ma mi piace molto perché c'è sempre un filo di verità in una realtà molto più vera però che dovrebbe essere scalfita e fa parte anche adiano cosentino non ricordo l'attore ma molto bravo anch'egli mi sa domenico diele sì dico bene che dovrebbe scardinare le coscienze altrui ma non vi dico altro perché è un film che merita ed è molto 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 interessante film di questo genere a me piacciono molto sia perché la crudetta i thriller sono dei miei film preferiti e si parla di pulizia di calci di ultras ed è un film molto attuale perché sono tanti 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 anni che in italia nutre cresce serpeggia questo malessere increscioso dilagante sconsacrante e enorme dell'ignoranza applicata nella vita come lo sport con pretesti sempre più ridicoli che si protraggono nelle generazioni nelle generazioni quindi il tema attuale c'è la brutalità pure divertimento anche musica eccellente tensione crescente ed è un film che vi consiglio su netflix ora